Siamo contenti che sia arrivato un ragazzo che comunque ha fatto di tutto per venire qui a Lanciano, pur essendo una squadra il Cagliari, ha fatto di tutto sia quest'estate che adesso per venire qui, finalmente ci è riuscito e fa piacere la voglia di questo ragazzo di venirci a dare una mano e dobbiamo sperare, dobbiamo far sì che la voglia di questi ragazzi, lo stesso Bonazzoli che è venuto comunque da un palcoscenico importante per venirci a dare una mano, per il fatto che di ottenere quell'obiettivo, ripeto, difficile sicuramente, ma sono convinto che se continuiamo a fare quello che stiamo facendo alla fine otterremo quell'obiettivo che è quello della salvezza. La posta in palio è una posta importante, quello che mi aspetto è che ci sia apporto da parte del pubblico perché è una partita importantissima, ma il giro di ritorno è chiaro che dobbiamo unirci tutti quanti per cercare di ottenere quell'obiettivo che, ripeto, sono convinto che alla fine non otterremo. Per far sì che questo accada c'è bisogno anche che il pubblico aiuti questi ragazzi e dia il proprio appoggio come sta facendo ultimamente, quindi non cambia assolutamente nulla. Comunque dobbiamo cercare di vincere la partita senza far sì che sbilanciarsi, senza dare la possibilità al trapine magari di colpirci in contropiede con delle ripartenze. Dobbiamo essere sereni e lucidi nel cercare di far nostra la partita che così facendo magari sicuramente miglioreremo la posizione in classifica, sicuramente metteremo dentro una squadra in più per la lotta alla salvezza e quindi sicuramente ci avvicineremo di più al nostro obiettivo, quindi quella a prescindere i punti di penalizzazione, poi quelli quanto verranno vedremo.